Il rischio nel suo infortunio è che si ha una botta, un'altra volta siamo in difficoltà. Lui si alena, lo fa tutto bene, ma è una partita diversa perché non possiamo controllare. Abbiamo deciso che lui sembra bene, si alena bene, ma è meglio aspettare ancora un po' e per essere sicuro 100% che tutto è guarito e il rischio sempre sarà minore.